... Venerdì 24 gennaio, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV al nostro consueto appuntamento del mattino che comincia alle 7 in diretta con la rassegna stampa e l'occhiata che diamo tutti i giorni ai giornali Il santo di oggi è un santo che ci appartiene, un santo a cui vogliamo bene perché è San Francesco di Sales ed è il patrono dei giornalisti cattolici, degli scrittori cattolici Il sole sorgerà alle 7.32 e tramonterà alle 17.07 Per quanto riguarda il tempo di oggi avremo pioggia nell'entroterra con gelate nelle zone pianeggianti e nel fondo valle soprattutto in queste prime ore del mattino e dunque anche durante la notte e dal tardo pomeriggio queste piogge dalle zone appennini che si estenderanno al resto della regione nel corso della serata Per quanto riguarda la giornata di domani, quindi siamo nel fine settimana, nel weekend abbiamo queste diffuse, deboli anche precipitazioni nel settore anconetano, pesarese con fenomeni che si esauriranno nel corso del pomeriggio avremo ancora temperature minime in aumento mentre le massime sono stazionarie e di conseguenza le temperature minime essendo in risalita non formeranno quella che è appunto il gelo della notte Domenica invece, domenica avremo una giornata di cielo, una regione divisa a metà a nord cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso così come a sud mentre nel centro della regione ci sarà questa strisce immaginaria di sole alternata a nuvole anche con piovaschi lungo la costa e nelle zone appenniniche poi il tempo tornerà bello, tornerà bello perché c'è la rimonta dell'alta pressione che determinerà un rapido miglioramento del tempo già dalla prossima settimana e staremo ancora per giorni e giorni senza pioggia, senza perturbazioni Allora, adesso andiamo a leggere i giornali come potrete immaginare, ampio spazio anche alla questione di Erdorica quindi il terremoto giudiziario in regione ampio spazio a questa vicenda a ridosso proprio delle elezioni regionali ma c'è anche la cronaca con un incidente che vedremo tra poco accaduto a Metauriglia di Fano dove un uomo si è ferito gravemente in uno scontro frontale nello stesso punto in cui morirono alcuni anni fa, decenni fa il papà e anche lo zio Il Corriere Adriatico apre con la sicurezza perché? Perché in arrivo ci saranno nel Comune di Pesero vigili urbani in servizio praticamente tutta la notte nei fine settimana avranno dei caschi, scudi e anche bastoni distanziatori avranno questa dotazione particolare allo studio anche dei gruppi Whatsapp per il controllo di vicinato che non ci tengono a precisare dal Comune di Pesero non saranno ronde la mozione sicurezza del Movimento 5 Stelle condivisa anche dalla maggioranza con un emendamento è stata presentata ieri dovrà essere discussa appunto in Consiglio Comunale Di spalla qui sempre sulla prima pagina del Corriere i PM assicurano su Ardorica faremo presto le indagini saranno svolte in tempi brevi ha assicurato la Procura in relazione a questa inchiesta aperta per analizzare gli ultimi 15 anni di rapporti tra la Regione e l'aeroporto la società che gestiva l'aeroporto di Falconara 77 gli indagati tra cui Ceriscioli, Spac e D'Ambrosio l'ipotesi di reato è concorso in peculato a centro pagina invece 100 firme per i parcheggi siamo sempre a Pesero si alza la protesta dei residenti e dei commercianti di Via Passeri dopo l'introduzione della zona traffico limitato tanti disagi e una raffica di multe per la sosta nel 2019 sono stati senzionati 11.700 automobilisti e poi sei scuole nuove di Zecca arrivano i finanziamenti dalla Regione che ha stanziato 12 milioni e mezzo per Pesero, Tavuglia, Cagli, Mercatino, Serra e Piagge mentre a Cattolica la cronaca mamma e figlia travolte mentre vanno all'asilo questa invece è la pagina di Pesero del Carlino maledizione di famiglia il titolo si schianta dove morirono il padre e lo zio l'uomo che è ricoverato al torrette di Ancona e ci è andato in eleambulanza ieri mattina poco dopo le 8 è grave mentre il titolo e questo vale per tutte e tre le edizioni a erdorica scandalo a cielo aperto milioni buttati a zero controlli dalla Commissione d'inchiesta regionale fino alle indagini della Procura e poi a Fano si discute sulle potature degli alberi alberi che secondo l'Associazione Ambientalista sono stati massacrati anche la Regione Bocia Aset e il Comune per come sono stati tagliati ma poi c'è anche la storia di questo pitbull questo cane che vaga in strada due ore di paura perché in tanti hanno segnalato tra tavuglie gradare la presenza di questo animale che spesso viene accostato anche a livello di cronaca a fatti poco piacevoli anche se poi in realtà non è così sono cani che se tenuti bene sono docili insomma non fanno del male a nessuno allora al Parco Miralfiero invece siamo sempre sulla prima pagina del Carlino di Pesero arriva la finanza gli spacciatori buttano la droga e poi scappano dalla primavera come abbiamo visto la sicurezza fa le ore piccole nel senso che nel fine settimana i vigili a Pesero entreranno in azione anche di notte sempre dalla prima pagina la storia di Eleonora più forte della malattia tre mesi in barca un'operazione al cervello le cambiò la vita ma ha ritrovato il mare la sua grande passione poi il basket con la WL che resiste Miaschi non si rimuove il talento di Cernovenne era stato chiesto da Udine la società non ha però intenzione di cederlo andiamo a vedere velocemente le pagine di Ancona l'inchiesta vola sulle elezioni aeroporto e scontro tra i partiti l'indagato Ceriscioli finisce nel mirino a Senigallia i ladri entrano in comune e portano via un oggetto storico dalla stanza del sindaco Macerata gli sballati del volante Polstrada SOS alcol e droga 500 patenti ritirate in un anno le pagine interne si schianta dove morirono padre e zio ecco la foto della Hyundai completamente distrutta sul lato guidatore dove all'interno c'era Alfio Anniballi 69 anni residente a poche decine di metri dal luogo dello scontro che è stato come ho detto trasportato in eleambulanze d'Ancona è ricoverato agli ospedali riuniti di Torrette pericolosissimo quel tratto di Statale 16 che taglia a metà l'abitato della frazione fanese ripeto siamo a Metauriglia alle porte di Fano lato sud verso Ancona nella stessa zona nello spazio di circa 100 metri Anniballi aveva perso anni addietro il padre Oddo e lo zio Nazareno Cecchini a causa di diversi incidenti stradali e questa è l'altra fotografia della Land Rover che si è schiantata ma ovviamente essendo una macchina più grande più resistente ha solo praticamente distrutto il cofano per il resto l'abitacolo si è rimasto intatto tra l'altro la donna di 40 anni di Fano che era al volante della Rover si è ferita ma non in modo grave violenza sessuale invece sotto minacce e 170 telefonate al giorno tunisino cinquantenne accusato dalla ex di atti persecutori se non ubbidisci ti uccido mentre il resto del Carlino ecco la pagina che si occupa di questo schianto sulla strada maledetta Metauriglia incidente lungo la strada Adriatica settantenne sbalzato fuori dall'auto trasportato ad Ancona Alfio Annibali è ex saldatore in bianchino sempre attivo per il carnevale perché in passato anzi no più che in passato diciamo che durante il carnevale lui partecipa sul famosissimo carro della musica arabita mentre in passato è stato anche impegnato nelle varie battaglie in favore della borgata sia riguardo le condizioni delle strade che relativamente alla realizzazione delle scogliere e sono in tanti sono tanti gli amici che sono in apprensione per lui e che hanno contattato la famiglia per avere notizie sulle sue condizioni di salute ed eccola qua l'altra la parte di taglio basso sempre su questa storia lo zio e il padre morirono nello stesso punto l'incredibile destino della famiglia Annibali due tragedie e ancora lacrime nel 1989 Oddo papà del settantenne rimase vittima di un frontale era appena uscito di casa come è successo al figlio al figlio è andata meglio per fortuna nel 1995 Nazareno zio di Alfio venne investito mentre andava invece in motorino l'altra vicenda drammatica triste da fermo la storia di Jennifer adesso pare che secondo le ultime notizie che questa bambina di sei anni sia stata soffocata dalla mamma che poi dopo ha inscenato tutta la questione dell'appartamento della cucina che è andata a fuoco di lei che non è più riuscita ad entrare per portare in salvo anche anche Jennifer mentre è riuscita soltanto a salvare la bambina più piccola insomma potrebbe aver soffocato la figlioletta con un cuscino per poi simulare questo incendio sperando che poi il fuoco bruciasse ogni traccia di questo delitto emergono particolari dunque sempre più inquietanti su quanto è accaduto nell'abitazione di Servigliano vicino fermo in cui è stato trovato il corpo senza vita della piccola Jennifer particolare che inchioderebbero la mamma di questa bambina la mamma si chiama Pavlina Mitkova 38enne di origini bulgare in carcere a Pesaro con l'accusa di incendio doloso e morte a seguito di un altro reato e questa è la fotografia dove c'è appunto la donna che ora si trova in carcere la piccola che si trova in cielo e il papà invece che è lì e che ha in un giro di poche ore visto la sua famiglia distrutta e adesso i soldi raccolti in paese serviranno per il funerale appunto della piccola Jennifer ancora incredulità tra la gente che vuole solo conoscere la verità dei fatti milioni a pioggia zero controlli a Erdorica dieci anni di scandali titola il resto del Carlino così la commissione in regione prima delle nuove indagini e qui pubblica tutti i nomi dei politici dei dirigenti e funzionari degli a Erdorica e anche quelli di Enac sono 77 lo ricordiamo persone sulle quali la procura sta indagando la finanza è da lì che è partita questa inchiesta quando è entrata in Erdorica l'informativa in procura è giunta dalle fiamme gialle intanto il governatore si difende dice abbiamo fatto però molte cose buone l'aeroporto della regione è stato salvaguardato una grande operazione nel rispetto delle regole sì però va detto che se sono stati dati 48 44 milioni di euro milioni più milioni meno erano tutti i soldi dei marchigiani che hanno finanziato per anni e anni e anni questo aeroporto che adesso è passato ai privati Ceriscioli Gostoli Famuro ha salvato l'aeroporto dice il segretario regionale del PD tutto è stato fatto alla luce del sole ma le opposizioni attaccano manipolazioni politiche ma la gestione omissioni in fase di controllo da parte della regione spesi 100 milioni dei marchigiani visto non sono neanche 40 48 qui la Lega dice spesi 100 milioni dei marchigiani poi sapremo meglio dalla procura e dalle fiamme gialle anche l'importo esatto sul nuovo piano regolatore la Lega di Fano chiede trasparenza invece bozza negata sarà dunque una maxi variante la replica dell'assessore Fanesi non è un documento ufficiale non lo ha visionato neppure la maggioranza gli ambientalisti intervengono sulle potature in questi giorni che si svolgono in alcune vie importanti di Fano alberi massacrati Aset dice invece tutto è in regola lupus infabula censura le potature la strigliata arriva anche dalla regione ma prende la parola Reginelli che è il presidente di Aset e che dice invece che le cose sono tutte in regola parla di alberi massacrati addirittura il resto del Carlino lo dice anche la regione da Ancona arriva questa strigliata comune di Aset i normali regoli di potatura non sono state applicate soprattutto in via Papieria ma Reginelli respinge queste critiche dice nei confronti del nostro operato non c'è stata sollevata alcuna eccezione nel comune dai carabinieri forestali la critica dell'associazione ambientalista risulta imprecisa anche per quanto riguarda la documentazione fotografica l'immagine ad esempio di Viale 12 settembre ritrae la preparazione al passaggio dei carri allegorici che altrimenti risulterebbe impedito dagli alberi in effetti per esempio anche su Viale Gramsci se uno che magari non sa che affanno si fa il carnevale e guarda così passando un turista il Viale è come è stato potato come sono come si presentano gli alberi insomma viene da domandarsi il perché perché in effetti sono tagliati soltanto da una parte il lato che dà sulla strada proprio per consentire ai carri di passare senza essere danneggiati per la Lega sul piano regolatore c'è questo accesso negato agli atti vogliono nascondere la maxi variante seri ma l'assessore Fanesi replica il documento è solo una bozza chi vuole può consultarlo negli uffici poi si parla di un'iniziativa solidale per gli emarginati sempre da Fano servizi pubblici e privati è stato presentato il nuovo modello integrato il comune di Fano con l'ambito sociale 6 hanno presentato un progetto che si chiama comunità solidale per l'inclusione sociale di persone senza fissa dimora che vede come parti attive alcuni soggetti come Polonovi i talenti l'associazione amici di casa Betania la Caritas San Paterniano eccetera eccetera dunque c'è stasera un concerto recital dedicato a Lucio Dalla la Rocca Malatestiana e poi l'altra notizia sempre su questa iniziativa che riguarda comuni e associazioni che scendono in campo con questo progetto di pronto intervento per accogliere dare un tetto a coloro che non ce l'hanno e quindi clochard coloro che dormono fuori ammesso che poi ripeto vogliono vogliono farsi vogliono andare sotto un tetto o comunque appoggiare la testa su un cuscino a volte non è sempre così a volte sono loro che vogliono continuare a vivere per strada nonostante il freddo e nonostante il gelo comunque è giusto ed è bello che ci sia questo servizio di pronto intervento che serve ad aiutare i senza tetto e gli emarginati che verranno eventualmente intercettati su Fano e nel territorio dell'ambito sociale saranno distribuiti poi indumenti prodotti per l'igiene e coperte l'assessore Tinti dice è un esempio concreto di welfare mentre sotto c'è la Caritas che lancia un appello abbiamo finito coperte e lenzuola da Centinarola il volontario Fiorenzo Bufano lancia l'appello dice servono anche i piumini chi può ci aiuti ancora dai giornali dalla Valle Metauro l'altra sera qui lunedì c'è stato il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci Simona Zonghetti le ha fatto anche sollecitata da diversi messaggi che sono arrivati da casa alcune domande sulla questione del REMS e i giornali oggi parlano proprio delle risposte di questo parlano di ciò che ha risposto il sindaco attraverso il programma i cittadini no REMS di Fossombrone sottoscrivono un comunicato molto forte nei confronti del sindaco Gabriele Bonci affermando che dopo mesi e mesi di inutili attese il sindaco è tornato finalmente a parlare della REMS e lo ha fatto da Fano TV dietro sollecitazione di una serie di messaggi ricevuti sfoggiando una serie di perle di saggezza che hanno lasciato sbalorditi gli spettatori la prima di queste perle secondo il comitato non REMS è quando ha paragonato la vicenda al romanzo di Don Quixotte e di Mulini a vento confronto che ovviamente non regge neanche per un minuto visto che nel nostro caso le armi e le strategie a disposizione per fermare la REMS e mettersi in posizione di forza nei confronti dell'Asur c'erano e il finale di questo romanzo sarebbe potuto essere diverso aver fermato una struttura irregolare sotto più aspetti normativi e anche pericolosa noi comunque dicono e concludono quelli del comitato non ci arrenderemo mai e così scrive invece il resto del Carlino caso REM le colpe di Bonci il comitato contro la struttura a Fossombrone rinfaccia il mancato ricorso alla sentenza del TAR dopo mesi e mesi di inutili attese il sindaco è tornato finalmente a parlare della REMS e lo ha fatto in TV vabbè su Fano TV Fano non ci stava forse la conclusione di Bartoli dice noi comunque non ce ne andremo aspetteremo al Varco il primo passo falso dell'Asur e dell'amministrazione comunale per proseguire con forza la nostra battaglia scrive AB sul Carlino arriva la finanza fuggi fuggi di pusher lasciano al parco la cocaina le ruine nell'Ashish controlli al Mirafiore con il Canebro per scappare hanno utilizzato i buchi nelle reti di recinzione quindi continuano questi controlli al parco Mirafiore ma soprattutto nonostante questi controlli siano ormai quasi quotidiani è incredibile come gli spacciatori continuino a imperterriti a tenere questo luogo come luogo di scambio e di spaccio centro Avis Sasso Corvaro attivo ma inoperoso il mercatale inutilizzato a dicembre gennaio prese di posizione del consigliere Arcangeli e del presidente Alessandrini e poi la neve che risveglia il Monte Catria gli impianti sono in funzione in questo fine settimana abbiamo visto che forse qualche fiocchetto di neve potrebbe cadere anche in questi giorni anche se non è poi così freddissimo ma comunque non tutte le piste sono utilizzabili percorribile il campo scuola è aperto anche il rifugio delle cotaline non sono previste nuove precipitazioni nevose sempre a frontone c'è anche il motoraduno e poi invece da Mondolfo la notizia che è stato espulso dall'Italia lo spacciatore che viaggiava in BMW è un ucraino di 39 anni arrestato dai carabinieri di Mondolfo per spaccio di sostanze stupefacenti era senza passaporto né patente di guida ed era stato notato dai carabinieri della stazione di Mondolfo mentre andava a fare la spesa a bordo di una BMW al supermercato Famile di Cento Croci mentre da Senigallia è stata la notizia che c'è stato un blitz dei ladri in comune i ladri che sono entrati dal sindaco è stato preso il collare del gonfalone civico sono stati filmati anche mentre entrano da un ingresso laterale rubate anche le monetine di un distributore mentre abbiamo visto nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno c'è stata la cerimonia di premiazione dei vari comandi di polizia locale vari agenti di polizia ebbene record di encomia anche per la polizia locale di Senigallia con ben sette riconoscimenti assegnati durante la festa regionale sempre da Senigallia minaccia di lanciarsi nel vuoto la polizia lo salva in ospedale aveva iniziato quest'ottantenne a chiamare facendo telefonate minacciose e di lì ovviamente è partita la mobilitazione dei poliziotti che hanno cominciato a girare all'interno dell'ospedale di Senigallia e alla fine sono riusciti a trovarlo era praticamente quest'ottantenne il quinto piano vicino ad una finestra e lo hanno bloccato l'uomo è stato salvato dai poliziotti e consegnato al personale medico che ha subito provveduto ad avvisare i familiari mentre un anziano che è un certo punto un 83enne di tre castelli come succede a volte ha avuto un bisogno impellente di fare pipì e quindi era in macchina con l'auto accostato è sceso per fare appunto dei bisogni però è caduto in un dirupo è finito in un dirupo ed è stato recuperato dai vigili del fuoco è successo ieri intorno a mezzogiorno quando quest'uomo appunto è sceso per rispettare questo bisogno fisiologico però ha perso l'equilibrio ed è caduto Branco di Lupi invece siamo vicino a Santa Veneranda a Pesero a Sbrana un capriolo l'attacco è avvenuto di notte fuori dalla villa di un professionista è una villa di un professionista che è circondata da campi non coltivati e spesso è meta di famiglie di caprioli e il padrone di casa dice sono tre anni che li vediamo passare davanti casa spariscono per un po' di tempo poi tornano recentemente abbiamo visto passare due esemplari adulti con due cuccioli però dove ci sono i caprioli ci sono anche i predatori ovvero in questo caso i lupi e sono stati visti sono stati visti e uno di questo un branco di questi lupi è riuscito a sbranare un capriolo poi c'è la storia di questa donna più forte della disabilità perché è riuscita dopo un intervento che ha subito nel 2010 invasivo al cervello che l'ha resa disabile motoria ebbene è riuscita a rimettersi in carreggiata come diremmo e in questo caso a portare avanti la sua passione cioè quella di andare con il vento in puppa su una barca a vela credevo di aver perso la mia vita sportiva dice lei invece ho scoperto che i limiti non esistono raccolta di firme in via Passeri in cento per chiedere i posti auto Pesaro parcheggi non segnala gli stalli riservati a residenti e commercianti subissati di sanzioni amministrative in un anno i verbali nella ZTL sono stati circa 11.700 e bisogna regolamentare dice anche il carico e lo scarico controlli sui permessi rilasciati il centro storico di Pesaro così è invivibile sopra il luogo dei consiglieri di quartiere inutili i divieti di fermata almeno la sera fondi dalla regione per sé nuove scuole sono 12 milioni e mezzo di euro non c'è però Urbino gli edifici riguardano Pesaro Tavuglia Cagli Mercatino Conca Terre Roveresche Serra Sant'Abbondio nel pacchetto la palestra per via la Marmora che verrà utilizzata anche dalla primaria Manzi Trenitalia sposta l'orario della freccia bianca impossibile raggiungere Roma di mattina la rabbia dei passeggeri Bordoni e Barilari dicono l'obiettivo è costringere i marchigiani sulla tratta di Bologna insomma anche se è più veloce però insomma si va ad allungare PD e 5 Stelle a bracetto sulla sicurezza a Pesaro i vigili urbani in servizio pure di notte la proposta congiunta riguarda i fine settimana gli agenti saranno dotati di caschi scudi e spacer sticks allo studio anche una forma di controllo di vicinato attraverso l'app di Whatsapp ma non saranno come insomma tengono a precisare delle ronde questa era l'ultima notizia credo che ci sia giusto il tempo un secondo per rivedere i titoli dei giornali ve li faccio vedere perché comunque più o meno è la notizia con cui abbiamo chiuso due secondi fa la rassegna quindi il titolo è per la sicurezza le firme per i parcheggi invece la fotonotizia sul Corriere Adriatico poi le sei scuole che verranno finanziate nuove di Zecca mentre il carriero di Pesaro apre con la maledizione di famiglia lo schianto che c'è stato a Metauriglia vicino Fano dove morirono il padre e lo zio di quest'uomo che a 69 anni a 70 anni era alla guida di questa macchina adesso è ricoverato il torrette di Ancona è in gravi condizioni insomma se la caverà e gli facciamo i nostri migliori auguri con questo noi ci fermiamo qui c'è anche un'informazione che riguarda il traffico con vi dico che c'è traffico in Viale Sandro Pertini a Fano c'è questa segnalazione waits e quindi ve la rigiriamo così come è arrivata se siete a Fano in Viale Sandro Pertini sappiate che c'è un po' di traffico insomma ecco come più o meno avviene quasi tutti i giorni a quest'ora grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale e buona giornata a tutti Grazie a tutti